Mi ricordo che è un bar in Pistone. Oh, il galletto, un amico ha detto dove lo compro il galletto. Un galletto, il galletto, e io me l'hanno dato alle due meno un quarto di oggi. Speriamo bene di poterlo trovare, io spero di sapere da dove si può comprare, perché lo regaleremo, lo regaleremo. Simpatic, simpaticissimo, eh? Va bene, va bene. Simpaticissimo, guarda, guarda che bello. Mentre fai cantare il galletto. Questa è la prima cosa che lo devo fare, lo devo regalare ai miei nipoti. Mentre fai cantare il galletto sentiamo De Falco, va bene, poi torniamo. Come sensazione io al centro del campo mi trovo bene. Poi nel 4-3-3 ho giocato spesso e volentieri mezz'ala e comunque mi sono adattato, mi sono trovato lo stesso bene. Poi come ho detto prima, in base anche a che tipo di partita si va ad affrontare, uno deve pensare che tipo di gioco, con che tipo di mentalità deve anche entrare in campo. Mi sento di non aver dato il massimo. Sono inconsapevole di poter dare molto di più e sto lavorando per arrivare nella condizione fisico, mentale, ottimale per dimostrare tutto il mio valore. Sicuramente qualsiasi vittoria aiuta il gruppo. Poi venivamo da un periodo dove i tre punti mancavano, quindi questa vittoria anche come è avvenuta. In dieci abbiamo dimostrato che comunque siamo una squadra che rimane compatta. Abbiamo dimostrato anche un buon gioco, secondo me abbiamo fatto un'ottima partita a Brescia. Quindi è normale che questa settimana a livello morale siamo stati un po' più tranquilli, più sereni, più consapevoli delle nostre qualità, perché comunque questa partita a Brescia ha dimostrato che abbiamo delle qualità. Adesso, prima della sosta natalizia, abbiamo questa partita col Vicenza, che non dico che è fondamentale, ma noi vogliamo dar continuità ai risultati, soprattutto in casa, perché come ha detto anche il mister, in casa manchiamo un po' sotto questo punto di vista. Quindi vogliamo questa vittoria. De Farco ha parlato, ma intanto tu durante la pausa hai scoperto un'altra... No, perché l'amico Alessandro Di Viceglie degli Ultras mi ha fatto vedere che questo fa un chicchiricchi, proprio tenendo sempre fermo, chicchiricchi, proprio chicchiricchi fa. Facciamo in questo modo gli auguri ai tifosi del Bari, anche se ne abbiamo modo di farlo, no? Beh, insomma, con questo chicchiricchi facciamo gli auguri di buon Natale. Gli auguri, gli auguri. A tutti quanti, di buona salute soprattutto, e poi se avere anche il risultato, meglio. Auguri anche a te, professore. Allora, vi ricordo il bianco e il rosso ultimo minuto, negli ultimi minuti finali della partita, più le voci dei protagonisti, più le vostre voci su Radio Bari, con la conduzione di Davide Lattanzi e Cristian Siciliani nello spazio della Mixed Zone per le interviste. Grazie a tutti, noi ci ritroviamo però lunedì. Mi raccomando Gianni, eh? Sempre, sempre. Alla prossima, ciao! Alla prossima, ciao!